Maggiore risorse per 600 milioni di euro nella manovra di bilancio 2024-2026 in Friuli, Venezia Giulia. Questa mattina la riunione in giunta per l'approvazione preliminare l'assessore regionale Zilli, attenzione particolare per sanità e denti locali. Guerra in Medio Oriente, Gorizia e Nova Goriza lanciano un appello alla pace dai sindaci, un documento congiunto per chiedere il rilascio degli ostaggi e la cessazione delle ostilità belliche su entrambi i fronti. Operazione ad ampio raggio della Guardia di Finanza di Treviso nel settore del commercio di bevande, contestate fatture false per oltre 30 milioni di euro per evadere 7 milioni di euro di IVA, perquisizioni in 44 sedi in tutta Italia 10 le persone denunciate. Una pista di pattinaggio da 1200 metri di superficie ghiacciata tra le più grandi in Italia è Udine Ice Park, l'attrazione a disposizione a partire da dicembre per residenti e visitatori fino al 7 di gennaio nella splendida cornice di piazza Primo Maggio in vista delle feste e previsti stand e una grande giostra a tema. Il telegiornale di Media24 ben ritrovati con l'informazione della nostra emittente televisiva. Dunque partiamo dall'economia come abbiamo sentito dai titoli e da quella che è stata una riunione in giunta regionale oggi per quanto riguarda la prossima manovra finanziaria in Friuli-Venezia-Giulia dove sono previsti ulteriori 600 milioni di euro da destinare a sanità e denti locali. Barbara Zilli, Assessore regionale, la sentiamo. Assessore Zilli, questa mattina si è ordinata alla giunta per affrontare il tema della legge di stabilità. Quali sono le principali decisioni prese questa mattina? Intanto dobbiamo dire che questa legge di stabilità potrà contare su maggiori risorse per 600 milioni di euro, la maggior parte derivanti da entrate tributarie e da rientri. E questo permette alla giunta regionale di proporre una manovra di stabilità che continua a irrobustire le politiche sulle quali abbiamo investito e ragionato in questi anni ed anche mettere in sicurezza comparti strategici come quello degli enti locali e della sanità. A questo aggiungiamo l'importante iniezione di risorse per favorire e sostenere le politiche di investimento sul territorio regionale. È stato localizzato e recuperato quest'oggi dai sommozzatori dei vigili del fuoco nelle acque del lago di Santa Croce nel Bellunese il corpo purtroppo senza vita di Walter Locatello, il vigile del fuoco scomparso il 2 novembre scorso dopo essere caduto in un canale durante la recente ondata di maltempo. I pompieri sono stati impiegati in ricerche e sopralluoghi fino alla triste notizia di oggi. Era caduto in un canale apposta al pago durante le piogge incessanti senza purtroppo più riuscire ad emergere. I colleghi del comando di Belluno assieme al comandante Antonio Del Gallo hanno espresso profondo cordoglio stringendosi in un abbraccio al piccolo figlio Martino, alla compagna, ai genitori, agli amici tutti, una nota di cordoglio anche da parte del presidente della regione del Veneto Luca Zaia. Maltempo ancora perché dopo la mareggiata a Lignano-Sabbia d'Oro si è entrati nel vivo con la conta dei danni. Oggi il sopralluogo da parte di Mauro Bordin, presidente del consiglio regionale in Friuli-Venezia Giulia, che ha visitato l'area del faro rosso a Sabbia d'Oro e il pontile a mare di Lignano-Pineta. Con un dato su tutti, quello del ripascimento necessario a sistemare la spiaggia, la manutenzione ordinaria prevede 35 mila metri cubi a Sabbia d'Oro e altrettanti a Pineta, ma le maree estive già avevano determinato il raddoppio della stima e i violenti episodi meteo degli ultimi giorni hanno portato a un totale di 200 mila metri cubi di sabbia necessari, che significa superare i 4 milioni di investimento con tutto quel che ne deriva in termini di appunto finanziamenti e tempi. Dobbiamo innanzitutto, ha detto Bordin, garantire a Lignano una stagione 2024 all'altezza della sua grande tradizione in termini di servizi e ospitalità. Anche a San Michele al Tagliamento, nella vicina San Michele al Tagliamento, c'è stato un sopralluogo per quanto riguarda l'ultima ondata di maltempo da parte del prefetto di Venezia, Michele Di Bari. La regione, ha detto il prefetto, ha manifestato la propria disponibilità a sostenere le richieste per la manutenzione di canali e argini, soprattutto a supporto del deflusso delle acque nel canale Cavrato, che in queste circostanze di forte criticità idraulica si è rivelato essere il punto più debole. Verrà inoltre sostenuto lo stato di crisi per la spiaggia di Bibione e sono lieto, ha detto il prefetto, di aver trovato supporto nella proposta di rafforzare la collaborazione con la vicina regione Friuli-Venezia-Giulia per individuare insieme una soluzione condivisa per la gestione delle acque. Il bilancio nel Porto Guarese dopo l'ultima ondata di maltempo, altri due evacuati a Caorle. L'emergenza può dirsi conclusa, ma sicuramente c'è ancora molto, molto, molto lavoro da fare. Danni per oltre 500 mila euro, travolti dall'acqua almeno 300 ettari di terreni agricoli adibiti a coltivazioni, salvi 800 tori che però hanno rischiato di annegare. Si può tracciare quindi un bilancio dell'alluvione che ha colpito i prati nuovi, perché di alluvione si tratta nel territorio di San Michele a Tagliamento, provocata dalla breccia creatasi sull'argine del canale Taglio, che non ha retto la pressione delle correnti e generate dalla portata d'acqua dal canale scolmatore Cravarato, affluente del Tagliamento in piena. Un'emergenza dietro l'altra anche a Caorle. Ieri si è aperto un fontanazzo sul Palangon, sono state evacuate due persone sul posto polizia locale, carabinieri, vigili del fuoco, genio civile, proprietario di quel corso d'acqua. Il prefetto Michele di Bari poi nel fine settimana aveva tributato un applauso in particolare al sistema di protezione civile regionale alla città metropolitana di Venezia, visitando il comune di San Michele a Tagliamento. La riunione si è svolta appunto nella giornata di venerdì per gestire l'allarma e garantire la tutela della sicurezza. Ringrazio la protezione civile regionale del Veneto, ha detto di Bari, il distretto portogruarese, i volontari di San Michele, la prefettura di Venezia, il comando vigili del fuoco, la città metropolitana, il consorzio di bonifica, il genio civile ARPAV, forze dell'ordine, polizia locale. Ringrazio, aggiunge di Bari, la regione del Veneto nella persona dell'assessore Giampaolo Butacin che, tramite per consorzio di bonifica, ha garantito opere di ripristino nei punti più fragili del nostro territorio. Da Nova Goriza e Gorizia parte un accorato appello alla pace in Israele e Palestina. Questa mattina i sindaci, rispettivamente Samo Turel e Rodolfo Ziberna, hanno infatti sottoscritto nella piazza della Transalpina un documento congiunto per chiedere il rilascio degli ostaggi, la cessazione delle azioni di guerra su entrambi i fronti e riconoscimento a tutti il diritto di vivere in Israele e Palestina. Al di là della provenienza, la capitale europea della cultura 2025 diventa un esempio concreto di come si possano creare le condizioni per una nuova vita fondata sul rispetto, sul riconoscimento delle sofferenze altrui e sulla collaborazione. Nova Goriza e Gorizia, quindi Slovenia da un lato e Italia dall'altro, sono una testimonianza di come un confine diviso dai tragici eventi del Novecento si sia trasformato da confine divisivo a confine di coesione e collaborazione. Un appello alla pace che segue quello, per esempio, avvenuto ieri da parte di Papa Francesco nel corso dell'Angelus e da ovviamente tantissimi esponenti del mondo occidentale. Ma proprio relativamente a questo documento condiviso sentiamo il sindaco Rodolfo Ziberna. Sindaco Ziberna, un appello importante è quello di oggi, in un momento in cui purtroppo le tensioni in Medio Oriente non accenano a placarsi. L'obiettivo è quello chiaramente di perseguire al più presto una pace, portando anche un'esperienza concreta, la vostra in questo senso, è così? Sì, certamente. Poi è ovvio che sia il sindaco di Nova Gorizia che sono scritto, siamo entrambi consapevoli che si tratta di un granello nel deserto o un bicchiere d'acqua nell'acqua, nel mare. Capisco, però è altrettanto vero che seppur radicalmente diversi c'è una similitudine tra la Palestina e Israele, i rapporti tra Palestina e Israele e quelli all'epoca tra Italia e Yugoslavia. Non dimentichiamoci che passava la cortina di ferro, che per sottagliava letteralmente in due sistemi politici, economici, linguistici, difensivi, perciò non era un confine tradizionale nel senso del termine. Ecco il motivo per cui, peraltro, sia il Presidente della Repubblica Mattarella che l'allora Presidente della Repubblica Bord Pakor della Slovenia riconobbero che questo era davvero una grande testimonianza, non solo in Europa ma anche nel mondo, di come un confine per decenni tragicamente divisivo che ha generato grandi dolori, grandi sofferenze, poteva diventare un confine, un luogo in cui parlare di coesione, di collaborazione internazionale. E questo, tengo a conto che fino a pochissimo tempo fa noi eravamo le comunità che ben che vada non si conoscevano, ma al che vada si guardavano in Cagnesco o si voltavano l'un'altra le spalle. È ovvio, ripeto, che le condizioni sono diverse, però il nostro appello da Capitale Europea della Cultura del 2025 e sappiamo che un giurista direbbe che il punto uno ante è la pace. Non può esserci cultura se non c'è pace. Ecco perché. Dalla pace si declina poi tutto il resto. Per arrivare alla pace sappiamo che necessariamente, prima di qualsiasi negoziato, devono essere liberati gli ostaci. E poi dobbiamo arrivare a una consapevolezza comune, largamente diffusa, che nella Palestina e in Israele devono convivere entrambe le comunità. Non dimenticandoci che Hamas non ha nulla a che fare con la Palestina, Hamas sono dei terroristi che anzi stanno lavorando contro la pace. Da un sindaco a un altro, quello che abbiamo sentito, Rodolfo Ziberna. Arnando Pitone è in studio con noi, sindaco di Meduna di Livenza. Bentrovato. Un saluto a voi e i aspettatori a casa. Ha sentito insomma il suo collega Ziberna con il primo cittadino di Nova Goriza, un appello alla pace e anche l'esempio di quello che questi due stati hanno rappresentato da un punto di vista del progresso storico ed anche poi della collaborazione. Chiaramente calarlo nel contesto attuale non è semplice, l'ha detto lo stesso sindaco, ma è chiaramente auspicabile. Tra l'altro, insomma, Pitone si discute anche di quelle che sono poi le conseguenze di questo conflitto in Medio Oriente e in quello che viviamo tutti i giorni sul fronte della sicurezza e non solo. Cosa ne pensa? Sì, i colleghi fanno benissimo a provarci, nel senso che loro sono dei testimoni veritieri, vivono di confine. Là c'è stata guerra, se pensiamo alle foibe, pensiamo ai deportati e quant'altro. Adesso si vive in pace e si collabora e quindi è un bel segnale, è un bel esempio. Il Medio Oriente però, posso dire, è tutta un'altra cosa, nel senso che va bene provarci, però la realtà, la politica culturale, storica è completamente tutta un'altra cosa. Ecco, tra l'altro si discuterà proprio di questo tema ed anche di terrorismo giovedì, proprio in una dirivenza dove arriverà Magdi Cristiano Alam, che ha delle posizioni anche insomma abbastanza chiare su questo aspetto. Sì, guardi, io con Magdi Cristiano Alam siamo amici veramente da tanti anni, una delle prime serate l'abbiamo fatte vent'anni fa. Devo dire che la trovo una persona, una di più preparata in assoluto per quel che riguarda il terrorismo è il Medio Oriente. Certo che se penso alle serate fatte, in questi anni purtroppo, purtroppo non ha servito poco a nulla da esempio, nel senso che il terrorismo ahimè è tema attuale proprio in questo conflitto terribile che stiamo vivendo. Ne parlevamo anche insomma anni scorsi relativamente al fatto di quelle allerte che c'erano in tutta Europa e chiaramente anche in Italia con l'innalzamento dei controlli relativi alla prevenzione, alle misure di intervento da parte delle forze dell'ordine, ma non solo, su quello che stava accadendo erano insomma alcuni anni fa si pensava insomma di non poter più vedere insomma questi potenziamenti e invece insomma siamo ancora a quel punto lì. Sì sì appunto ripeto, ahimè ci proviamo anche questa sera, io Magdi lo avevo invitato prima dell'inizio del conflitto, questo voglio dirlo per chiarezza, non è perché adesso il tema è caldo, allora lo avevo e avevo la data giovedì 9 novembre in auditorio in comune Meduna di Rivenza, la serata è aperta a tutti, lo avevo appunto invitato per presentare il suo ultimo libro e in questa occasione ahimè discuteremo anche di temi caldi, di conflitti e appunto della possibilità del terrorismo anche, ci auguriamo di no anche a casa nostra. Diamo anche qualche bella notizia e poi la saluto al sindaco perché lei insomma nel pomeriggio ed era insomma di ritorno ha festeggiato una donna di Meduna di Rivenza che ha raggiunto l'età dei 106 anni, è così? Sì è la nota piacevole di oggi, siamo andati a portargli un mazzo di fiori, a salutargli, a fargli chiaramente personalmente gli auguri di questo compleanno, 106 anni di Agatha, ma lei vuole essere chiamata Nella è il suo sopronome, 106 anni, longeva, lucida e così mi ha detto anche, avvisa tutti i miei concittadini che io con la testa sono a posto e quindi lo ribadisco anche in tv, l'anella è lucida e a posto. È una bella notizia. È la più longeva della comunità di Meduna quindi fa molto piacere. Ci vogliono anche delle belle notizie, non solo insomma. Per fortuna, per fortuna sì. Di cui abbiamo appena parlato, grazie Sinaco. Grazie a voi e a tutti i telespettatori. Per essere stato con noi. A proposito di sicurezza, questa mattina nella sede della Prefettura di Venezia è stato sottoscritto un accordo finalizzato all'incremento della sicurezza a bordo dei treni nell'ambito della Regione del Veneto. Lo ha reso noto il Prefetto Michele Di Bari che ha firmato il documento con tutti gli enti interessati affinché ci sia un maggiore controllo sui convogli. Il corpo senza vita di un uomo è stato invece recuperato attorno alle 9 di oggi a Lido di Venezia nei pressi delle Bocche di Porto, a lavoro i vigili del fuoco. Si tratta di una persona anziana la cui identificazione ancora non è stata resa nota. Treviso muore per un tumore, dubbi sull'esposizione all'amianto, il lutto, trattore di mosto e non è Veneto. Muore a Treviso sabato all'alba dopo aver scoperto di avere un tumore al polmone soltanto poco più di un mese fa, lo scorso settembre. Disgrazia a Torre di Mosto dove viveva da 4 anni Cristian Molinari, 46 anni, originario del Long Con, frazione di Annone Veneto. L'uomo era dipendente della dita nexta di San Dona di Piave, azienda che si occupa di bonifica ambientali. Il 46enne era in perfetta salute, poi i sintomi. Cristian non si è arreso, si è sottoposto alle cure del caso, in particolare alla radioterapia. I familiari, tra cui il padre Gianni e il fratello Gianluca, si sono subito resi conto del male. Nelle ultime due settimane il 46enne era ricoverato all'ospedale Caffoncello dove è stato assistito giorno e notte. I due congiunti hanno avviato un'assistenza notturna con il supporto dei medici, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Tutte le offerte al funerale verranno devolute al Crodi Aviano. Furto nel weekend invece a Fontana Fredda. I ladri rubano, pensate, le quattro ruote di un Audi A3 di proprietà di una persona disabile. Indaga la polizia locale. Il fatto è avvenuto tra sabato e domenica. L'auto nuova era parcheggiata in uno stallo per disabili, in quanto il proprietario si muove in sedia a rotelle e quindi necessita del mezzo dotato di comandi manuali per gli spostamenti quotidiani. Durante il furto, oltre ad aver portato via pneumatici e cerchioni, sono stati danneggiati anche la carrozzeria, i dischi e i mozzi, causando un danno attorno ai 2.500 euro. Il colpo è l'ultimo di una serie di furti in abitazione registrati negli ultimi giorni proprio nel comune pordenonese di Fontana Fredda. Raffica di multe invece durante la gara di serie di tra Charlins, Muzzane e Porto Gruaro domenica a Carlino. È accaduto perché alcuni avevano collocato le auto in divieto di sosta. Le sanzioni sono decine, almeno 30, e tutte da 30 euro ciascuno. Essere colpiti dai provvedimenti sono stati soprattutto tifosi neutrali provenienti dal Friuli e i tifosi del Porto Gruaro. Calcio. A Mestre invece la Polizia di Stato ha arrestato un soggetto in esecuzione a un ordine di carcerazione, dovendo espiare la pena detentiva di 4 anni e 3 mesi di reclusione. L'uomo si aggirava con fare sospetto tra i passeggeri dello scalo e non sarebbe sfuggito all'attenzione degli agenti della Polferi, i quali lo hanno fermato e sottoposto a un approfondito controllo. Doveva rispondere del reato di furto reiterato ai danni degli esercizi commerciali a seguito di un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura di Torino. L'uomo è stato poi condotto in carcere a Venezia. 39 milioni di euro di fatture false per evadere l'IVA nel commercio delle bevande. Quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Treviso? False fatture per oltre 39 milioni di euro utilizzate, secondo l'accusa, per evadere 7 milioni di euro di IVA. È quanto hanno scoperto le fiamme gialle di Treviso in un'indagine sul commercio di bevande. Le bibite di provenienza comunitaria e prodotte in diversi paesi come Bulgaria, Germania, Malta, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna venivano solo cartolarmente fatte transitare presso imprese cartiere, quasi tutte formalmente con sede a Roma. Ditte che successivamente cedevano la merce sottocosto alle aziende che avevano originariamente ed effettivamente intrattenuto i rapporti con i fornitori esteri. Ommettendo però ogni obbligo di dichiarazione e di versamento delle imposte. Il fulcro della frode è stato individuato in due società con sede in provincia di Monza, Brianza e Bergamo. Le perquisizioni dei finanziari hanno riguardato 44 sedi di aziende coinvolte. Treviso era una delle basi del reclutamento dei prestanome, ben 5 sui 21 totali. Sempre nel capoluogo della marca è presente il principale reclutatore. Un ruolo fondamentale all'interno del gruppo è stato assunto da tre persone attive nella provincia della capitale, dedicate alla costituzione delle imprese cartiere. A loro toccava il compito di intrattenere rapporti diretti con vari professionisti, notai, commercialisti, e di collocare le sedi legali, prevalentemente presso mailboxes. Gli stessi provvedevano anche alla ricerca dei vari prestanome, nulla tenenti da utilizzare dietro compenso come soci o amministratori delle varie aziende strumentali alla frode. Infine, i tre gestivano di fatto in luogo e per conto dei prestanome i rapporti bancari intestati alle società cartiere. Dieci persone sono state accusate dei reati di associazione per delinquere, emissione e contabilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e quindi omessa dichiarazione. Conferenza questa mattina nella suggestiva cornice delle segrete del Castello di Porcia per la presentazione della quarta edizione di Rive, l'assegna internazionale di viticoltura ed enologie. A fare gli onori di casa, il presidente dell'ente fiera Renato Pugliatti. Manifestazione di grande pregio e risonanza internazionale. Rive si svolgerà tra mercoledì 8 e venerdì 10 novembre nei padiglioni della fiera di Pordenone e sarà un'occasione molto importante per fare il punto sulle novità nei settori della viticoltura della meccanizzazione dell'enologia. 8 padiglioni espositivi per un totale di 25.000 metri quadrati di superficie che saranno occupati da 250 aziende e oltre 300 marchi. molti gli eventi nel corso della manifestazione. Tra questi ricordiamo il convegno sviluppare e consolidare la tua impresa guardando al futuro e l'evoluzione tecnologica in viticoltura a cura del Comitato Scientifico di Rive. L'assegna si concluderà venerdì con una degustazione di vini a cura della sommelier Rosa Prisciandaro, collaboratrice di Slow Food. Domani avremo modo anche di proporvi un ulteriore approfondimento nel corso del telegiornale. Sabato 11 novembre invece nel Teatro Zancanaro di Sacile l'esclusiva al volo del jazz, una delle sole tre date italiane del musicista, rapper e produttore inglese, alfamist, iconico protagonista della nuova scena jazz londinese. Sul palco con il suo gruppo porterà il sound meticcio che ibrida fra loro anche i pop, funk, dub e che fa di Londra l'avanguardia jazz oggi più eccitante al mondo. Inizio alle ore 21. A Udine invece è presentato in Sala Ajace in municipio il progetto della Udine Ice Park. La nuova pista di patinaggio in città che sarà inaugurata a dicembre animerà Giardin Grande almeno fino al 7 gennaio del 2024. Una delle piste di patinaggio urbane più grandi mai realizzate in Italia. 1200 metri di superficie ghiacciata a disposizione di cittadini e visitatori. Piazza Primo Maggio, una grande superficie ghiacciata, Udine Ice Park, 1200 metri quadri di ghiaccio qualcosa di nuovo, una pista rettangolare più un percorso a forma di cuore questa è la grande novità dove un percorso largo 6 metri dove ci si potrà sbizzarrire in evoluzioni mentre si pattina. Questo è quanto, creiamo un parco ghiacciato ci sarà una giostrina per bambini dedicata con le renne di Babbo Natale, le slitte e addirittura è gratuita, si potrà dal nostro sito internet, appunto Udine Ice Park scaricare il biglietto maggio e si potrà salire gratuitamente sulla giostra. Ci saranno dei chioschi, delle casette dedicate con tutti i prodotti tipici le frittelle, il vin brulee e quant'altro, i prodotti tipici natalizi. è un'iniziativa nuova, è un'iniziativa, le piste su ghiaccio era già presente in Udine era più piccolina, questa è un'iniziativa nuova, è una grande manifestazione, una grande pista speriamo di accontentare tanto pubblico, soprattutto un pubblico che può venire da fuori che può venire a Udine, visitare la città e venire a trovarci a noi sulla nostra pista. Lo scopo primario è quello di fare una bellissima iniziativa e di riproporla negli anni futuri per cui questa è una novità di quest'anno, speriamo che il pubblico senta il desiderio abbia la volontà di venire e che venga e si diverta e che logicamente ci dia la possibilità di riproporla negli anni prossimi addirittura più grande con più situazioni e più eventi. Già nel 2005 abbiamo iniziato con le piste su ghiaccio e mercatini era nuovo, era un sistema nuovo per l'Italia però ci siamo resi conto che non c'era ancora all'epoca l'interesse della piste su ghiaccio. Oggigiorno al pubblico piace patinare è diventato un appuntamento fisso durante le festività natalizie cercare una piste su ghiaccio che arriva in piazza il primo maggio da lì può partire il tour di visita verso le bellezze insomma che la città saprà regalare. Abbiamo qualcosa che le abbiamo raccontate presenteremo un progetto definitivo verso metà mese dove chiaramente ci sarà la narrazione di luci particolari, di allestimenti particolari, di attività nelle piazze quindi insomma un Natale che vuole occuparsi di tutte le esigenze dei nostri concittadini ma anche di chi visita la città per dare un'offerta variegata e offerta variegata vuol dire attrattività. Oscar Cicuto è sindaco di Teglio Veneto ben trovato e grazie per essere con noi. Buonasera a voi. Dunque sabato centenario per quanto riguarda il parco della rimembranza proprio a Teglio Veneto nella cornice di una giornata quella del 4 di novembre che chiaramente è celebrativa delle forze armate, dell'unità nazionale ma è stato anche il momento per riscoprire ne abbiamo parlato nel corso dei notiziari precedenti, anche la storia locale grazie anche alla tecnologia e a un QR code. Sindaco è un passo in avanti soprattutto per le giovani generazioni. Intanto vi ringrazio di poter fare questo intervento, sicuramente è un passo in avanti diciamo che è un primo passo di un cambiamento, modernamento, di però continuare a fare cultura, cultura della storia del nostro paese ma di un territorio insomma ci sono territori comuni vicino a noi che sono più a valenza turistica dove i passi si fanno magari più velocemente ma anche noi intanto nasce dall'idea degli storici del paese, da uno storico principalmente da Massimo Falcomer che assieme all'assessore vice sindaco Valentina Nicodemo hanno deciso di intraprendere questa iniziativa tanto per ricordare appunto i cento anni del parco della rimembranza e dopo per poter far sì che non sia solamente un giorno che viene ricordato perché lo diciamo sempre che anche il discorso delle guerre quando si fa la memoria della giornata delle forze armate lo si fa non per la guerra ma anzi per ricordare ciò che è la guerra e per cambiare, per migliorare. E anche i caduti ovviamente. Esatto, in questa maniera con questa targa che è stata inaugurata c'è un QR code appunto che è collegato alla storia, questo va a prendere il lavoro già fatto dagli storici con il libro edito dal Comune di Teglio Veneto, Teglio Veneto la grande guerra, quindi figli del fronte ai nemici in casa, 1915-1918 che è stato edito appunto nel 2021 dal Comune di Teglio Veneto, si riprende quel libro che è veramente un altro monumento per il nostro paese perché ha ripreso una storia molto particolare per Teglio Veneto. Tra l'altro il suo collega Rodolfo Ziberne, l'abbiamo sentito prima, sindaco di Gorizia in un appello assieme al sindaco di Nova Gorizia affinché possa arrivare la pace in Medio Oriente visto questo conflitto che purtroppo ancora non vede, una luce in fondo al tunnel, magari anche portando l'esperienza che Gorizia e Nova Gorizia hanno avuto proprio nel corso del precedente conflitto bellico. In questo senso è anche interessante chiaramente far capire come ci debba essere anche da quest'altra parte del mondo una presa di coscienza collettiva affinché certe scene e certi accadimenti non possono più avvenire. Ma sicuramente, lo sappiamo tutti quanti, appunto come dicevo prima, che ricordiamo sempre cosa sono le guerre, però magari ce le ricordiamo in alcuni giorni particolari. Oggi vediamo sempre più nei Medi e nella televisione cosa succede non lontano da noi perché ormai le distanze si sono veramente accorciate. Bisogna ricordare quello che è, quello che è stato, le distruzioni che hanno subito i nostri avi. Ma non è solo per ricordare la storia, ma appunto è per creare un nuovo futuro e per dare un nuovo futuro a nuove generazioni che sicuramente sono molto più spensierate di quello che erano in passato, ma è giusto che loro siano e che possono vivere con tranquillità. Grazie Oscar Cicuto per essere stato con noi. Andiamo a Latisana, località che attende il tributo agli 883. Sentiamo Rosario Padovano. Il tastierista di Max Pezzali approderà il teatro Odeon di Latisana per un evento speciale. Si terrà sabato 11 novembre in occasione della Fiera di San Martino un evento specialissimo per gli appassionati di musica. Si festeggeranno infatti dieci anni di concerti in tutta la penisola del tributo 883, il complesso musicale Ianni d'Oro, che vede il frontman Dennis Sanavia cimentarsi nei brani più famosi di Max Pezzali con una strepitosa somiglianza all'originale. Diversi gli ospiti della rassegna che saliranno sul palco, tra i quali la special guest Ernesto Ghezzi, tastierista del cantante pavese, da vent'anni. Inoltre è prevista la simpatica incursione di Marco Milano, il comico alias Mandy Mandy, che strapperà qualche sorriso ai presenti. Tra gli artisti è anche Giada Masatto, ballerina influencer, che ha preso parte al colossal House of Gucci di Ridley Scott. A Pasiano anche quest'anno ci sono delle novità per quanto riguarda invece il Natale. si svolgerà l'edizione 2023-2024 di Preseppi a Pasiano. L'evento sarà ospitato nella sala Virginio Fondi, adiacente al Teatro Gozzi, gestito da Orto Teatro, che affiderà la custodia dei preseppi e gli ingressi alla mostra ai volontari locali. Preseppi a Pasiano sarà ospitato dal 10 dicembre fino al 7 di gennaio. Si è conclusa invece sabato sera la 33esima edizione del concorso internazionale Città di Porcia che quest'anno ha avuto come strumento principe il trombone dopo una settimana di intense prove eliminatorie che hanno visto sfidarsi 47 concorrenti provenienti da tutto il mondo. I tre finalisti si sono avvicendati sul palco della Sala Grande del Teatro Verdi di Pordenone per l'ultima decisiva prova la finale con orchestra insieme alla Friuli Venezia Giulia, orchestra diretta dal maestro Massimiliano Caldi, musicista molto attivo e di ampia esperienza internazionale. Sulla base anche del punteggio ottenuto nelle prove precedenti al termine del concerto sono stati assegnati i premi a Botton Draus ungherese, primo premio da 9.000 euro, a Tim Oweyan Paesi Bassi secondo premio di 5.000 euro e a Robert della Guia Martinez Spagna il terzo premio da 3.500 euro. Un'ultima notizia da Prata di Pordenone. Il comune assegna 5 borse di studio agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico scorso sono stati messe a disposizione assegni da 500, 400, 300 e 250 euro, previsto inoltre un riconoscimento simbolico anche per gli studenti che hanno raggiunto la media scolastica richiesta dal bando indipendentemente dal requisito economico. Le domande vanno presentate entro le 13 del 17 di novembre. Tutto per quanto riguarda il telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo e poi all'edizione sportiva del TGM e a seguire la programmazione che ovviamente continua su Media24. Grazie e ci rivede puntuali come sempre con i prossimi TGM. Grazie. 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 Grazie.